ciao ragazzi bentornati su kirby e la terra perduta nello scorso episodio abbiamo finito tutta la quest delle isole da sogno perdis sconfiggendo tutti i nemici sia l'id f86 che il boss segreto fra virgolette segreto delle isole perdis ovvero morfonite ottenendo anche l'ultima l'ultimo progetto alla fine che conteneva spada morfonite poi abbiamo fatto l'ultima via del tesoro ovvero la via del la via morfonite sì insomma abbiamo completato tutte le vie del tesoro e abbiamo ottenuto tutte le abilità al massimo abbiamo completato quasi tutto ora ci manca solo da fare la coppa definitiva la coppa definitiva z poi vabbè sbloccare tutti i filmati riuscire a vincere tutte le battaglie e riuscire a vincere la coppa definitiva z ora come andrò andrò ovviamente così e non perché questa è l'abilità più potente del gioco perché l'ho provata mio dio ma soprattutto ho potenziato l'abilità ghiaccio l'ho potenziata di 2 ora devo dovrei dare 5 pietre ma sinceramente no grazie ho dato veramente tantissime energie ci ho messo tanto e niente alla fine questo è il massimo di potenza ora penso che se la potenziassi andrei a sbrilluccicare l'attacco quindi sì però devo dire mamma mia questa abilità è potentissima per dirvi tenendo premuto la parata e b si crea questi fantasmi che fanno abilità fuoco e vanno sull'avversario se si fa in aria fa questo e soprattutto la sua schivate è un teletrasporto mio dio poi quando fa quell'attacco caricato e ci sono delle piccole scintilline dovrebbe vedersi no succede solo se colpite nemici va bene se colpite nemici e quindi recuperate vita mamma mia questa abilità è potentissima e soprattutto l'attacco questo shot ai mini boss per dirvi comunque oggi cosa faremo l'ho già detto cosa faremo quindi vi invito a iscrivervi a lasciare un mi piace o non mi piace e andiamo nella coppa definitiva z ora piccola cosa ho battuto di nuovo il record quello della coppa metanite due minuti e un secondo e 32 centesimi mamma mia devastante questa abilità allora andiamo kirby ti devo parlare di una cosa riguarda la coppa definitiva z la coppa definitiva z si svolge in un regno diverso dove dovrai affrontare dure battaglie contro nemici particolarmente feroci io non potrò seguirti nell'arena e perciò e peggio ancora non potrò commentare le battaglie o meno male ma sono certo che sopravviverai anzi che dico sono certo che trionferai dopo tutto hai appena salvato il mondo comunque andiamo non posso seguirti nell'arena ti ammi ti ammi ti ammireremo da qui allora c'è solamente mini meto mamma mia allora ci danno solo un'abilità va bene c'è quanto gli ho fatto eh sì gli ho fatto veramente tanto mi scusi visto ho recuperato vita direi che questa abilità spacca davvero i pianeti no no mai più quella roba allora green fiolina spettrale ok vai 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 ok ah volevo saltare ma non ho fatto in tempo grazie mamma mia però quanto danno fa eh e comunque la spada grossa potenzia l'attacco eh ok ora ok 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 mamma mia il primo tometo ehm il primo tometo ehm kindedede si kindedede ovviamente con la valanga di ok ok via ok ora tanto il tempo non mi importa eh del tempo sinceramente non mi importa ok ho recuperato tanta vita ok allora dov'è che vai vai lì ovviamente ok allora uno due tre quattro cinque cinque allora ah solo per dirvi ehm mentre facevo la ehm la coppa meta night ehm mi sono allenato anche con i boss solo per dirvi quindi gori mondo o gori mondo o gori mondo con l'aperta o la chiusa scegliete voi l'ho praticamente sempre one shottato si è possibile one shottare i boss solo con spada morfo night ecco cioè voi fate l'attacco caricato così glielo sbattete in faccia e lo one shottate soprattutto con i mini boss soprattutto con i mini boss allora te sarai un grande problema perchè spami l'attacco della presa e ovviamente ehm schivi quindi il tuo attacco il tuo attacco è a ricerca dov'è ouch eccola avete visto quella piccola scintillina credo di no eccola di nuovo quella scintillina vi permette di curarvi e mamma mia quanto danno fa allora forza 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 forzza mamma mia è davvero potente e non sto usando l'attacco parata o l'attacco parata in aria cioè vi rendete conto quante attacchi ha E quanti non ne sto usando Adesso contro Tropical Woods Direi di usarli perché Guardate Eh Non è partito perché Eh Perché non è andato E adesso Quelli vanno Eh però ovviamente Si sono consumati vabbè Mi scusi Può togliere questo coso Eh come Ah è dall'altra parte Era tutto il giro a sinistra No Fa poco danno eh Questo spiritello No per dire eh Cioè quanto danno ha fatto Scusate Ah Ah Comunque Questa schivata Eh Ok No Molla 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 M Dicevo Questa schivata State attenti perché Ok Ok datemi un secondo Che questo attacco è davvero rompiscatole Mamma mia ho avuto un colpo Pensavo di aver buttato via l'abilità Allora stavo dicendo Direi di usarne uno Sì loro sono facili dai Ultime parole famose Comunque dicevo L'attacco della schivata Questo qua Posso andare dove voglio Ma Ho provato ad usarla Contro Il boss finale Delle isole da sogno perdis Per chi si è perso l'episodio ritorni L'attacco esplosivo Quell'esplosione dello spettro Questo spettro intendo È questo coso La sua esplosione è inschivabile Cioè io ho provato A fare la schivata Non funziona State attenti eh Grazie mille Ok Ovviamente questi sono Sono i boss Della nostra avventura Che abbiamo fatto Nelle isole da sogno Quindi hanno i pattern Diversi Hanno attacchi Molto più potenti Ma one shot Arvin due colpi Sinceramente È un gran piacere Ah metanite Siamo a 5 Per sicurezza Non si sa mai Illusione solitaria Metanite spettrale Ok Ok Non ti ho mai visto Ok Oh Au Questa attacca È cattivo Ouch Cioè avete visto Che io l'ho Colpito Cioè va bene Ok rocce di lava Attenzione Ok Ok Ne lancia due No Ne lancia tre Ok Penso di aver perso Ouch No Mi dispiace Riprovo Perché mamma mia Cioè è la prima volta Che perdo Nell'arena Comunque Spendendo 100 monete Si può rifare D'accordo Questo non era possibile Nella vecchia arena Ovviamente Cioè hanno modificato Tantissimo L'arena Ok No No Comunque Cioè Devo per forza Schivare i suoi attacchi Non è più possibile Fare L'attacco Eh no È possibile Farlo Allora perché Non mi dava il coso Cioè Vabbè Ah È proprio a ricerca Ok Ok No Grazie Dai Dai Mamma mia Quanto ci ho messo Allora Prendiamone uno E andiamo Da De 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 perdis Spettrale Allora Ok Grazie Ok Meteor Devo andare di qua Perché dall'altra parte Mi va Nella lava No Eh Mi scusi Comunque Chiedo perdono Per aver utilizzato Questa cosa Eh Del Sì Di pagare Cento monete E ritornare In game Però Se è un'opzione Del gioco Io la sfrutto Mi dispiace Allora Leon perdis Leon perdis Ouch 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 E due Ok Non si può Spammare Mi sembrava Anche ovvio Eh Teletrasportati Eh Quando vuoi Non si è Ok Cioè non capisco perché la schivata Non ha più effetto Grazie No comunque questa arena è molto Più difficile Allora Eh Ma quanto ci mette Non ci metteva così tanto Ad attaccare prima Eh 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 Ciao eh mi piace questa cosa Proprio Ma l'aspiri Mamma mia come faccio Recuperabilità Un po' E ora inizia la parte difficile Eh Due contro uno No No Eccolo qua Ah Cento in più ogni volta Ok Mamma mia Mamma mia Comunque l'avevo detto Che era difficile Difficile no Cioè ora mi funziona Perché prima no Va Benissimo Cioè ora Mi fa la carica Veloce Ah forse perché Ho più vita Grazie Eh Ma Leongaro Ho capito che sei Posseduto Ma mamma mia Allora forza Vieni 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 qua Vieni qua Eh Mi fai prendere La mia abilità Ok Dai Ok 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 Mamma mia Non mi importa Non mi importa Non mi importa Se Se perdo mille volte No eh Non mi importa Allora Eh Altre due E Ho l'abilità Ghiaccio No Morpho Knight Eh Spiego il perché Morpho Knight Mi posso curare Con l'abilità Ghiaccio Invece no Ah Morpho Knight E comunque Penso che Anche se si perde Una sola volta Non ci dia Il Coso Eh Grazie Eh Dico quello Della collezione C'è di vincere Tutte le battaglie Alla fine Io ho perso Ne ho persi un po' Quindi alla fine Quindi alla fine Ok Allora Eh Grazie Io non volevo fare questo Volevo fare l'attacco Ma perché Non funziona Oh Grazie Perfetto Ho i comandi Un po' Leggermente Sotto Qualcosa Cioè Devo tenere la testa Orizzontale Solo per dirvi Ah No 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 Ti prego Leva questo effetto Bizzarro Puoi togliere Questa cosa Dai Oh Mi faceva male Il collo Eh Grazie Grazie Ancora Ok Dai Mi scusi Ah Quando voglio attaccare Non posso attaccare Oh Ancora Eh Oh 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 How What Oh 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 Ok Ok Questa è la battaglia finale Quindi prendiamo tutto E andiamo contro Specie nata dal caos Elphilis caos Wow Ok Mamma mia La mia abilità Ok Cioè non la vedevo più Eh Ok dai Grazie Ah ogni colpo mi toglie l'abilità Grazie mille Cioè quanto poco ti ho fatto Mi scusi Ah la vedo molto Grigia Eh Ok Ah eh Grazie Ok Ok Eeeh Ok Ho paura Quanto dura questo raggio Ok Ouch Ok Dai Mamma Aiuto Cosa Non penso che sia una cosa Completamente legale Cioè No No Ok Dai Abbiamo quasi fatto Ah per poco Dai Ah raggio Mi scusi Com'è possibile Schivare Quella Da fare Dai Ok Come l'altra volta Di Sì Questa Questa cosa non è No, non è Ouch Non è lui È lui È lui Aiuto, no No, no, no Eh? Ah, ok, devo rompere i suoi cosi? No, li ricrea Eh, ho un nulla di vita Grazie E rieccoci qui Allora, sono con l'abilità tempesta di ghiaccio Perché, mamma mia, non ce la faccio più Ouch Mamma mia, quanto toglie però, eh Ok, l'abilità tempesta di ghiaccio para Ok Ok Ora c'è l'attacco hyper laser Mamma mia, non ce la sto più Più facendo proprio Cioè, mi dispiace se questo episodio è così Ma mamma mia Cioè, l'arena non è mai stata così Eh, grazie Proprio quando sto attaccando Ma non si congela? Ma non si congela? Non ci fordico Ma non si congela? Ma non si congela? E sce Ok Mamma mia Non ce la sto più facendo Cioè non si congela In questo caso non si congela Ok premutissimo il pulsante di parata Ok si inizia Seconda fase Comunque non credo che Questo attacco sia parabile Cioè del tipo abilità ghiaccio tutta la vita Cioè mai No Oh all'ultimo Allora dove sono i cosi Ok no No Kirby dai Oh Ok no Questa era correre Dai corri 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 Mamma mia Non ce la sto facendo Sono a più di un'ora Solo per dirvi eh Ok dai L'ho capito dopo che era il buco nero E congelati Ok forza dai 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 Ok devo andare Ok anche il penultimo va bene Oh mamma mia Ok no Pensavo gli sto infliggendo danno solo distruggendo lo scudo Non è vero Mamma mia non ce la sto facendo più E ricordo io ho potenziato l'abilità ghiaccio E ricordo io l'ho potenziata Infatti se vedete sopra è più due Oh mamma mia No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Quanto odio Ok, la palla di fuoco Ok, sto iniziando a memorizzare i suoi pattern Ma non ce la sto più facendo Sono veramente distrutto Questa arena è la più difficile Mamma mia, non ho mai visto un'arena In un gioco Kirby Oh Aiuto Ok, questa qua Ok Ok Ok, dai Penso che in copp questa qua Sia molto meglio come cosa Per poco, dai Manca uno sputo Oh Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quanto dice? 45 minuti! Mamma mia! E' una figurina speciale! Specie nata dal caos, Elphilis Caos. Una convergenza unica di elementi dalle anime delle bestie locali alla farfalla eterna, eterea, dona a quest'anima testarda un'ultima possibilità di vendicarsi. Questa nuova creazione, guidata dal caos puro, viene però sconfitta dalla luce brillante della speranza di Kirby. E que... no, e l'ultimo alito di vita... alito di vita ritorna ad Elphilin. Kirby, sei incredibile! Ti rendi conto che hai vinto tutti i tornei del Colosseum? In onore di questo grandioso successo del regno... del regno dei tornei che si svolgono nell'arena, vorrei darti un regalo! Ecco una figurina speciale per te! Congratulazioni! Waddle Dee Commentatore! Il Colosseum è sempre pronto ad accogliere sfide contro bestie feroci, ma nessuno si aspettava di vedere un vortice misterioso proprio là dentro. Waddle Dee Commentatore era così spaventato che stava per chiudere l'arena. Ma alla fine di curiosità... Ma alla fine la curiosità ha avuto il sopravvento! Che il torneo abbia inizio! Per premiarti di aver superato con successo la... La parete della casa di Kirby è stata aggiunta a una nuova foto! A mano a mano che superi diverse modalità di gioco, nuove foto verranno aggiunte sulla parete della casa di Kirby! In tutto ci sono 10 foto! Continua a giocare e colleziona tutti... E colleziona tanti ricordi meravigliosi! Cerca di completare il gioco al 100% per dimostrare la tua maestria assoluta dell'universo di Kirby! Waddle Dee Mercante è arrivato in città! Se ti manca una figurina per completare la collezione, te ne darà una delle sue in cambio di una pietra rara! Negozia con lui... In tutto è 256, ok! Quante me ne mancano, scusa? Una, due... Eh, eh... Allora... Sblocca tutti i filmati? Quale manca, scusa? E comunque alla fine... No, pardon! Ah, quindi non devo sconfiggere tutti alla prima botta! Oh, meno male! Congratulazioni, Kirby! Ora tutti i filmati sono disponibili in questo... Ah, ok! Waddle Dee uscire! Dopo la distruzione della città, questo Waddle Dee con la passione per il cinema decide che il primo edificio da ricostruire deve essere proprio il cinema! C'è... Certo, un tetto e del cibo sono importanti, ma i film nutrono l'anima! Eh, se gli si chiede quale sia il suo film preferito, risponde... Tutti! Nessuno escluso! Vuoi guardare? Eh... Allora, li abbiamo tutti tutti? Sì, li abbiamo tutti! Gli ultimi che mancavano era... Nuova specie di voram... Divoramondo? In cerca della dolce luce! Mamma mia, mi dispiace per come è andata l'arena, ma mio Dio! Ah, non ne ho mai vista una così! Sinceramente, wow! Allora, eh... Andiamo qua dentro... Allora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove... Ce ne manca uno! Che, ovviamente... È quella... L'ultima che ci manca, alla fine! Allora, dici, come funzioni te? Ehm... Ok... Va bene, quante ne vuoi? A una? Ok! Illusione solitaria! Meta Knight spettrale! Lo spadaccino illusorio solitario incontrato fuori dalle isole da sogno Perdis! Grazie alla sua ferrea volontà, Meta Knight non si lascia manipolare da... Ehm... Da Fecto Perdis! Come invece è successo a Kindididi! Tuttavia, la sua energia pensante, residua, riesce comunque a creare questa strana... Questa sua strana copia! Come ricompensa per aver collezionato tutte le figurine! Ora potrai ascoltare i brani speciali nello schermo della collezione! E' 100%! Completato al 100%! Congratulazioni! Se ti dovesse avanzare una pietra... Una pietra rara... E volessi collezionare altre piet... Altre figurine... Sai dove trovarmi? Uno scambio è sempre ben accetto! Niente! Ho ottenuto il 100%! Davvero non c'è nulla? Nessun filmato, nessun... Nooo! C'è... Nulla di nulla? Serio? Non c'è il... Il cosino speciale che fanno? Ah, però c'è questo! Ah, che bello! Allora, vediamo l'ordine più o meno! Ehm... Allora, questi tre sono tutti minigiochi! Poi, aver finito il gioco! Ehm... In alto a sinistra! Aver finito il gioco! In alto a destra aver completato... Ehm... Come si chiama? La... Ehm... Le isole da sogno! Poi... Aver completato... Ehm... La coppa metanite! La coppa definitiva! Ehm... Tutte le missioni! Tutte le vie! La coppa definitiva Z! E aver fatto il 100%! Però non c'è altro! C'è... Ehm... Intanto te cosa mi dici qua? Quando abbiamo sentito che le ongare era sparito... Ehm... Non sapevo cosa fare! Però sono felice che siamo riusciti a salvarlo! Ora... Che sono tutti al sicuro! Spero che riusciremo a fare insieme un sacco di cose per crearci tanti ricordi meravigliosi! Sì! Ehm... Allora... Con il coso non c'era nulla perché ero a piena vita con il pisolino! C'è... Non c'è nulla di nulla? C'è... C'è... Serio? C'è... Le ho tutte 256 ma... Non c'è seriamente nulla? Mi dispiace se faccio questo giro perché alla fine io avrei finito! E mio Dio dovrei finire! Sono veramente a un secolo! C'è... Non c'è nulla di nulla! Serio? Ho solo finito il gioco al 100%! C'è... Un attimo! Non è che forse se vado nel titolo... C'è qualcosa? C'è... Sceglio un file... Ah, è coso! Ok! È tutto bello sbrilluccicante! Ehm... C'è... Sì! Continuare sul file 1! No, non c'è assolutamente nulla! Non c'è... Nulla di nulla! C'è... Allora... Di norma nei giochi Kirby... Ehm... Ci sarebbe la cosa del teatrino! Il teatro bello carino e coccoloso! Però se il cinema non lo fa vedere... C'è... Ehm... Mi sembra strano! No, non lo fa proprio vedere! I film saranno tutti... Ok! C'è... Non è che forse devo per forza vedere un film? C'è... Mh... Nulla di nuovo! Sono tutti filmati che abbiamo visto! C'è... Ehm... Quelle di inizio battaglia! Ehm... C'è ma... Ah! E comunque... Ok! C'è... Meta Knight doveva essere prima di King Dedede! Vabbè! Come sempre! Vabbè! Ehm... Però... Va bene! Ripeto! Questa cosa che non c'è! Il palco... Mi lascia un po' l'amaro in bocca! Ehm... Devo dire la verità! Perché di norma nei giochi Kirby c'è sempre questa cosa! Ehm... Ma ho finito tutti i tornei! Cioè... Ho completato veramente tutto al 100%? Cioè... Questo l'ho completato! Sì! Ho fatto tutto! No! Ehm... Mi dispiace! Ehm... Tu! Che hai da dire? Ehm... Sua mestà sembra apprezzare l'atmosfera piacevole da una... Ok! Ah! D'accordo! C'è... Ehm... No! Ehm... Ho un po' l'amaro in bocca! Perché di norma ci dovrebbe essere il teatro! Ehm... Mi dispiace ma questa cosa mi lascia proprio... L'amaro in bocca potente! Vabbè! Quindi non c'è niente! O forse devo andare nella mappa del mondo? No! Nulla di nulla! C'è... Ho completato tutto e non c'è la danza della vittoria? Che ho completato tutto al 100%? C'è... No! Mi hai tolto... No! L'infanzia! No! Ah! Che brutta cosa! No! È davvero davvero brutta! Non è giusto! Io voglio la danza della vittoria! Ah! Vabbè! Allora! Siamo al ventinovesimo episodio, vero? Sì! Ventinovesimo! E adesso! Cosa manca da fare? Perché questo non è l'ultimo episodio! Domani! Uscirà l'ultimo episodio! Perché cosa manca? Sì! Manca le stanze hall! Che ovviamente... Qua! Non aveva spoilerato, eh! No! Comunque... Sì! Alla fine abbiamo finito il gioco al 100%! In modalità tempesta! E comunque alla fine mi è stato detto, da uno di voi che ringrazio ovviamente, che la modalità facile, alla fine è l'unica differenza che avete, più vita e non ottenete le monete! Cioè, per quello che mi è stato detto è questo, poi... Ehm... Boh! Vabbè, controllerò anche io! Perché alla fine è una modalità facile per divertirsi con Kirby! Avrai a disposizione tanta energia! L'avventura ideale per i principianti! Questa avventura contiene anche delle varie... Va... Delle vere sfide! Ma potrai ricevere tante monete e stella come ricompensa! Cioè... Non ho capito in che senso, però... Vabbè... Vabbè... Comunque ricevo! Abbiamo finito! Nel prossimo ed ultimo episodio di Kirby e la Terra Perduta, andremo a vedere le stanze Hall! Quindi, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace, e al prossimo episodio! Ciao!